salve a tutti il gioco che vi presenterò oggi per la rubrica random gameplay si chiama roguelite lo so forse vi aspettavate dal titolo un video di griffing su maincraft come avevo già anticipato arrico su griffing italia ma purtroppo non ho più tempo per fare video figuratevi un video impegnativo come la grieffata ad un server maincraft ad ogni modo in questo titolo come vedrete in realtà faremo in qualche modo fra virgolette finta di grieffare come semplice il gioco che vedremo oggi che vergognosamente su youtube italia non ha trattato nessuno è il primo gioco in grado di creare storie utilizzando l'intelligenza artificiale finalmente si inizia a vedere su steam nonostante tutte le polemiche su questo argomento qualcosa di davvero interessante ma come funziona in poche parole questo gioco il meccanismo alla base del funzionamento di questo generatore è in realtà l'unione di due generatori ai che lavorano assieme da un lato infatti abbiamo un chat bot simile a chagpt che crea i dialoghi e le storie in cui il gioco si ambienta mentre al contempo un generatore di immagini basato su ai genera tutta la grafica dei luoghi dei nemici degli oggetti e degli npc della partita il risultato finale ottenuto è quindi una visual novel rpg la partita infatti viene definita dalle descrizioni della storia dei luoghi e del protagonista che fornite al chat bot prima di iniziarla e da lì il gioco genererà quindi i livelli all'infinito il gioco infatti non ha un finale definito ma possiede al suo interno un narratore di quest sempre gestito dal chat bot che tuttavia non si è obbligati a seguire si è infatti totalmente liberi di muoversi come si vuole fra livelli con i nemici che man mano che si va avanti diventano sempre più impegnativi ovviamente come in tutti gli rpg si deciderà con quali statistiche ed abilità partire che potranno essere potenziate combattendo o anche mediante i dialoghi con gli npc che saranno sempre gestiti dal chat bot ed il cui esito sarà influenzato dalle vostre abilità come ultima chicca poi dialoghi saranno anche parlati da un sintetizzatore vocale come potete vedere questo titolo è assolutamente innovativo ed unico nel suo genere e spero che sia l'inizio di un prospero futuro dell'intelligenza artificiale generativa nel campo del gaming per me è quindi un onore essere il primo in italia a recensirlo anche se nel disinteresse generale ed in mezzo a tutte le polemiche assurde fatte dalla politica sull'intelligenza artificiale a cui questo titolo da un pesante schiaffo gli sviluppatori ovviamente per provare a moderare i contenuti generati dalla lì hanno inserito dei filtri nel generatore che io ho provato ad evadere venendo brutalmente bannato dal loro server di generazione online tuttavia questo per me non è un grosso problema dato che dal menu opzioni è possibile decidere se sia un hardware abbastanza potente di far girare il generatore sul proprio computer questo poi ha il non trascurabile vantaggio di permettere di creare ogni tipo di storia anche politicamente scorretta pornografica o immorale quest'ultimo dettaglio ovviamente a molti può dare fastidio ma sono dell'idea che ognuno a casa propria se non fa del male a nessuno debba poter fare quello che vuole senza essere sempre sotto l'occhio vigile di un grande fratello alla fin fine è proprio questo il punto debole di ogni legge che vorrebbe controllare le ai per farlo bisognerebbe controllare ogni singolo pc del globo i generatori online infatti non sono che una minima parte di quelli esistenti e man mano che commercialmente hardware più potente sarà disponibile a basso costo ogni pretesa di controllo dall'alto non sarà giustificata dalle stesse leggi sulla privacy ovviamente come difetti questo gioco eredita tutti quelli delle ai generative caricamenti lentissimi anche utilizzando il loro hardware di rete o un pc potente immagine distorte specie quelle delle persone e contenuti spesso logici che ti portano a dialogare anche con oggetti utilizzare oggetti assurdi interagire con gli npc in modo imprevedibile ed in definitiva trasformare ogni partita in un viaggio lisergico che deraglia presto dalla storia iniziale altro difetto importante è che il gioco è solo in lingua inglese tuttavia consente di utilizzare anche motori linguistici propri che è possibile scaricare online e sarebbe da provare ad utilizzare un motore che parla italiano purtroppo però non ho avuto tempo di fare questo test a mio avviso sarebbe in un titolo futuro una cosa furba non utilizzare i generatori in tempo reale come in questo gioco ma al contrario fare in modo di creare tutto in anticipo prima di giocare questo da un lato permetterebbe di giocare questo gioco anche con hardware poco potente e dall'altro ti permetterebbe di creare un vero generatore di visual novel che potrebbero poi essere facilmente condivise personalizzate rifinite modificate anche a mano tramite lo steam cloud come vedete le possibilità dell'uso delle ai in ambito videoludico sono notevoli il futuro sarà prospero prima di chiudere voglio fare una piccola dichiarazione per restare a tema del titolo del video credo che i griefers di minecraft che giocano oggi siano migliori anni luce rispetto ai video che facevo io quasi dieci anni fa sinceramente se rimpiango e bei vecchi tempi delle mie griefate rimpiango ancora di più di non vedere più nuovi video di griefing ma d'altronde capisco sia riku che gli hiv positive è assurdo che un gruppo di griefers faccia la griefata del secolo ad uno streamer in diretta perculandolo come poche volte si è visto nella storia e subito dopo questo video venga calcio rotato da youtube in seguito a quattro minacce spero ancora di vedervi online cari colleghi griefers nella peggiore ipotesi se ancora avrete voglia di griefare avete tante altre case oltre youtube dove stare alcune anche inaffondabili arrivederci alla prossima magari questa missione vi in futuro porterà tante altre interessanti applicazioni dell'intelligenza artificiale nel gaming o forse tornerò a griefare un giorno no